Ben ritrovati amiche e amici di Tele Pordenone, grazie per essere in nostra compagnia anche questa sera con il notiziario della nostra emittente. In primo piano oggi dalla redazione di Pordenone un episodio con un protagonista, un'anziana che è stata salvata, è proprio il caso di dirlo, dalla polizia stradale mentre vagava in stato confusionale sulla A28. E poi il fermo di un cittadino pakistano pluripregiudicato da parte della polizia di stato di Pordenone, ma parleremo anche dei giovedì sotto le stelle che iniziano la prossima settimana. Avremo una ricca pagina sportiva nella quale inizieremo a parlare degli atleti pordenonesi del Friuli occidentale che prenderanno parte alle imminenti Olimpiadi di Tokyo. Prima di iniziare però come consuetudine passo la linea ai colleghi delle redazioni di Udine e del Veneto per le loro anteprime. Per i trovati dalla redazione di Udine e Gorizia e Trieste, in primo piano la tragedia al confine tra Italia e Slovenia dove un ragazzino di 13 anni è annegato nel fiume Isonzo. Anche Animis ha perso la vita un 27enne in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte. Per quanto riguarda la nostra parte, l'operazione Game Over della Guardia di Finanza di Udine che ha posto sotto indagine 11 persone. Spazio infine anche all'intervento di soccorso per un paracadutista e al nuovo corso di specializzazione in malattie infettive all'Università degli Studi di Udine. La linea adesso al collega del Veneto. Grazie, un saluto anche dalla nostra redazione del Veneto. Schianto mortale a Porto Gruaro, ieri in tarda serata in località lugugnana lungo la provinciale 42 muore un 24enne domiciliato a Pasiano di Pordenone. In un mezzo uscito di strada con a bordo in totale 4 persone, la guidatrice ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Un altro incidente attorno a mezzogiorno lungo la A13, Bologna-Padova, perdere la vita in questo caso invece un camionista residente a Cordiniano di 55 anni. Fuga di gas, rimaniamo nella marca con una vera e propria esplosione a Breda di Piave, abitazione completamente distrutta, miracolati due anziani. Si perde in montagna di notte e paura per una turista di nazionalità lettone. Aspettiamo due ospiti in studio, linea che può tornare a Pordenone. Due incidenti sul lavoro nella giornata di ieri in provincia di Udine e a Claut, dove un uomo di 5-8 anni è precipitato da un'impalcatura ed è ricoverato in gravi condizioni. Due episodi di incidente sul luogo di lavoro si sono verificati nella giornata di ieri in provincia di Udine. Un uomo di 58 anni, residente in provincia di Belluno, è scivolato da un'impalcatura mentre lavorava sul tetto di un'abitazione di Claut. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e dopo aver allertato il 112, hanno chiesto al medico del paese di intervenire per le prime cure. Il 58enne dopo la caduta è svenuto per alcuni minuti, salvo poi riprendere conoscenza. Le sue condizioni però si sono aggravate ulteriormente durante il trasporto con l'eli soccorso. Adesso si trova ricoverato presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e le sue condizioni sono molto gravi. Sul caso indaga il servizio di prevenzione dell'azienda sanitaria per determinare le cause del sinistro. Un secondo infortunio sul lavoro si è verificato invece a San Giorgio di Nogaro. In questo caso la vittima è un operaio che è caduto da una scala battendo la testa. L'uomo ha riportato anche in questo caso seri lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Schianto mortale sulla Iesolana bassa a Lugugnana di Portogruaro. La vittima è un giovane di Pasiano di Pordenone. Auto con quattro persone a bordo finisce fuoristrada sulla Iesolana. Muore un giovane di 24 anni. La tragedia è avvenuta ieri sera poco dopo le 23 in via Fausta sulla provinciale 42 a pochi chilometri dall'abitato di Lugugnana. Una Peugeot 206 che viaggiava in direzione Iesolo ha improvvisamente deviato la direzione di marcia finendo nel campo adiacente alla carreggiata sotto al piano stradale. All'interno del mezzo, seduto sui sedili posteriori, vi era Rifxion Monasterio, 24 anni, originario del Venezuela, deceduto nello schianto. Domiciliato a Pasiano di Pordenone, non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate nell'incidente. Alla guida della Peugeot 206 vi era una donna di 21 anni, anche lei di nazionalità venezuelana, estratta dalle lamiere contorte dell'auto grazie all'intervento dei vigili del fuoco. La ragazza è stata affidata alle cure dei sanitari. Una volta stabilizzata è stata trasferita in codice rosso all'ospedale dell'Angelo. Di Mestre, la prognosi è riservata. Con lei viaggiava anche il figlioletto di un anno e mezzo, rimasto ferito e condotto invece all'ospedale Caffoncello di Treviso. A completare il gruppo vi era una 14enne, sempre sudamericana, che ha ricevuto le cure dei sanitari dell'ospedale di Porto Gruaro. Non sarebbe in gravi condizioni. Ci sarebbe trattato dunque di una fuoriuscita autonoma, vista l'assenza al momento dell'incidente di altri mezzi coinvolti. Tuttavia, all'esatta dinamica dell'incidente, è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Porto Gruaro intervenuti sul posto per compiere tutti i rilievi di legge del caso. Per eseguire i soccorsi e gli accertamenti, la strada metropolitana è stata chiusa al traffico e riaperta dopo le tre del mattino, dopo circa quattro ore. Vagava in stato confusionale lungo la A28 con intenzione di andare a trovare il figlio a Lignano. Un'anziana è stata salvata dalla polizia stradale. Ci racconta tutto Chiara Muzzini. Camminava con difficoltà a piedi, con valigia, trolley e borsette a tracolla lungo la corsia d'emergenza della A28 all'altezza del comune di Azzano X. Protagonista della scena, segnalata al centro operativo autostradale alle 3.20 di questa mattina, un'anziana signora uscita con l'intenzione di raggiungere il figlio a Lignano, distante più di 50 km, per fargli una sorpresa. A soccorrerla, una pattuglia della polizia stradale di Pordenone, prontamente intervenuta sul posto. Gli agenti hanno portato la donna in una vicina piazzola di sosta per verificarne lo stato di salute, la provenienza, l'identità e gli eventuali nomi e residenze dei familiari, dato che non aveva documenti con sé. L'anziana, disorientata e in stato confusionale, è stata poi ricoverata all'ospedale di Pordenone per gli accertamenti di rito e riconsegnata nelle mani del figlio, il finale più lieto per questo episodio. Un motociclista di 27 anni ha perso la vita nella notte in un incidente stradale a Nimis. Abbiamo il servizio di Giovanni Aiello. Un uomo di 27 anni, residente ad Adegliacco, in provincia di Udine, è venuto a mancare in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Nimis. L'allarme era stato lanciato verso l'una quando un automobilista di passaggio ha notato una moto a terra e poco distante il corpo di un ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del proprio veicolo all'altezza di una curva, finendo contro un palo e perdendo la vita all'istante. Sul posto, insieme al personale sanitario che ha provato a rianimarlo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Gemona e i carabinieri della compagna di Cividale che si sono occupati di tutti i rilievi. Un 31enne pakistano è stato fermato dalla Polizia di Stato di Pordenone e condotto al Centro per il Rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Sulle sue spalle condanne per detenzione e spaccio di stupefacenti, rapina e lesioni. Trasferito al Centro per il Rimpatrio di Gradisca di Sonzo, 31enne pakistano già condannato per stupefacenti, rapina e lesioni. A collocarlo nella struttura, notificando il provvedimento di espulsione, gli agenti della questura di Pordenone. Un equipaggio della volante ha fermato l'uomo ieri pomeriggio nel centro cittadino a seguito di un controllo che lo ha coinvolto assieme ad altri due giovani. Il 31enne risultava già noto agli operatori della polizia per due episodi che hanno portato ad altrettante condanne definitive. Nel primo caso l'uomo era stato arrestato per tre anni e otto mesi assieme ad altri connazionali per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sempre nel Pordenonese, nell'ambito dell'indagine della squadra mobile denominata Bronx. L'altro avvenimento risale a giugno 2017 quando a Verona, nelle vicinanze dell'arena, il giovane ha rapinato un cittadino magrebino, sottraendogli il borsello con iPhone e documenti vari, dopo averlo picchiato con un bastone insieme a quattro complici, per poi dileguarsi per le vie del centro. Condanna, in questo caso, per rapina e lesioni, emessa dal tribunale Scaligero. È emerso anche che nel 2018 l'uomo aveva provato a chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, rigettato dalla competente commissione di Gorizia. Scarcerato per fine pena solo pochi giorni fa, in data 21 giugno, il giovane verrà allontanato a breve dal territorio nazionale in via definitiva. Siamo con l'avvocato Vito Cloud, presidente del Codacons. Buonasera, avvocato. Salve, salve, salve ragazzi. Con il suo inseparabile rospo sulla spalla. Eh, sempre, sempre. Non ingoiati a rospo, è sempre un mio amico. Eh, ma guardi, direttore, da 30 anni, eh? Sì, sì, certo, ormai è storia. Senta, parliamo di obbligo vaccinale per il personale sanitario, no? Pare che in Friuli, Venezia e Giulia, senza andare tanto distanti, la metà non si sia ancora vaccinata. E tra l'altro la federazione dell'ordine dei medici invoca la sospensione ex legge per questo personale. Sì, è vero, direttore. Io vorrei leggere, diciamo, due articoli sul messaggero di oggi che dice allontanare i sanitari Novax, scontro dirigenti medici regione. Voltiamo pagina, terza pagina, giusto l'obbligo di vaccinarsi per gli operatori della sanità. E questo lo dice un certo signor Perrone Don Norso. Poi c'è il presidente dell'ordine, Lucchini, che dice priorità per le esigenze del cittadino, eccetera, eccetera. Allora qui bisogna fare un lungo discorso, ma io purtroppo il tempo non ce l'ho per fare. E devo dire, primo, che l'Unione Europea ha emesso poco tempo fa, in data 27.01.2001, una risoluzione che dice chiaramente, tra l'altro, ha espressamente escluso che gli stati possano rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid e ha infine vietato di usarla per discriminare i lavoratori o chiunque decida di non avalersene. Quindi l'Unione Europea, che comanda, tra virgolette, attraverso le disposizioni di legge anche l'Italia, ha emesso questa direttiva, si chiama direttiva. Le disposizioni di legge italiane, con quella famosa, quel decreto legge del primo aprile, invece dicono dovete fare il vaccino. L'unica l'Italia che ha fatto una cosa di questo tipo, con un governo in belle, secondo me, per questa cosa, che non sia opposto ad una cosa del genere che è assolutamente inaccettabile e che i primi ricorsi sulla sospensione, che qualcuno, non so, riceverà in questi giorni, eccetera, porterà sicuramente non soltanto al decreto naturale per la perdita, diciamo, della valenza giuridica al 31 dicembre di quest'anno, ma sarà cancellato definitivamente e chissà se non c'è qualche responsabilità nei confronti di qualcuno. Allora cosa succede? Noi abbiamo già trattato come Codacons, abbiamo trattato il caso di 11 persone che avevano ricevuto la lettera con l'invito forte, diciamo, usando anche delle parole importanti, a vaccinarsi e dovevano dare, come avevo detto un'altra volta, diciamo, in questa televisione, dovevano dare le giustificazioni di aver o fatto il vaccino o essere in procinto di farlo o aver fissato la data di fare il vaccino, eccetera, eccetera, capito? Quindi, diciamo, avevano ricevuto questa lettera, altrimenti si minacciava la sospensione. Noi abbiamo risposto, non è stato minacciato nessuno di quegli 11 che abbiamo trattato noi, ma ogni giorno, come ho letto qui, si minacciano sospensioni di tutti i tipi, ha capito, no? Sospensioni de che? Ma scusate un momento, ragioniamo un po' indipendentemente da tutto. Ci sono la metà dei medici in Friuli Venezia Giulia senza da lontano che non ha voluto fare il vaccino. Li trattano tutti come degli appestati, perché a Udine ieri è successo un fatto incredibile, eclatante secondo me, una dottoressa di un reparto diverso, diciamo, dall'ospedale è andata in un reparto perché doveva parlare con una sua collega. La segretaria all'entrata le ha chiesto se aveva fatto il vaccino, lei ha detto no, non ho fatto il vaccino, lei non può entrare, ha detto. Cosa? Non può entrare? In un ospedale, lei che lavora magari nello stesso ospedale, non può entrare, mi ha chiamato, ha detto chiami i carabinieri, dottoressa. Chiami, ma no, ma io non voglio fare questioni, eccetera, eccetera. Doveva chiamare i carabinieri e fare un verbale nei confronti della persona che gli ha detto che non poteva andare in quel reparto. Bisogna agire così, perché se no non se ne viene fuori. Gli appestati sono quelli che hanno fatto il vaccino, con 15 elementi che ci mettono dentro, diciamo, nel nostro corpo, chissà cosa sono, senza controllare le persone, senza controllare, diciamo, se una persona ha avuto una malattia, quell'altra, eccetera. Perché? Perché addirittura le persone devono sapere di che cosa soffrono, di quello che prendono, quello che non prendono. Ha capito? Come fanno a dire le persone se io soffro di mal di cuore, se non so che ho mal di cuore? E devono dichiararlo. Allora viene fuori il problema, dopo le morti che si sono verificate, l'ultima di quella ragazza di 18 anni, perché non ha dichiarato, che è morta, morta naturalmente, con coagulazioni, eccetera, tutto il corpo, perché non ha dichiarato che usava un determinato farmaco. Quindi causa sua, addirittura. Ma stiamo raggiungendo l'inverosimile, signori? Qua bisogna denunciare lo Stato e anche l'ordine dei medici e verranno denunciati se prendono dei provvedimenti nei confronti dei medici che non si vaccinano. Ma non sono mica deficienti i medici che non si vogliono vaccinare. Ci sono 50.000 ragioni. Non sono tutti i Novax, ma ragionano, direttore, con la loro testa. Dicono, quelle sostanze che ci inoculano, che non sono state assolutamente testate, chissà cosa ci faranno fra due anni. Fra due anni possiamo beccarci il cancro tutti quanti e non avremo più gli leucociti, i neunfociti. Io non faccio il medico. E quindi possiamo beccarci il cancro e moriamo e ringraziamo chi? Draghi? Ha capito questo governo in belle che fa quelle disposizioni di legge assolutamente assurde? No, signori, no. No, ci sono delle ragioni. E se c'è qualcuno che ha ricevuto dei decreti di sospensione, siamo qua, il Codacons è dalla vostra parte e vi tutelerà giuridicamente, ma anche da un punto di vista, diciamo, del risarcimento del danno. Perché il risarcimento del danno sarà la base di questa cosa. Anche nei confronti degli ordini professionali se prendono provvedimenti di questo tipo, quando non devono e quando sanno che la norma è anticostituzionale. Perché verrà dichiarata anticostituzionale tutta la disposizione di legge. Bisognerà effettivamente che organizziamo un bel dibattito con un contraddittorio su questo argomento perché è talmente controverso e penso che non si esaurirà, insomma, in poche settimane. Con estremo piacere, direttore. Con estremo piacere. Organizzeremo un bel dibattito. Però devo solo dire una cosa. Non avete notato una cosa particolare? Che sui giornali non c'è un'intervista che viene fatta dai giornalisti pagati naturalmente dai loro dattori di lavoro che dicono che devi seguire le orme indicate dallo Stato. Non c'è un'intervista che viene fatta nei confronti delle persone che mettono in dubbio il valore di questa iniezione, di questo vaccino. No, non c'è neanche una. Trovatemene una in tutti i giornali. Oh, ma è possibile che ci sia una unilateralità, diciamo, di giudizio? È possibile che uno non venga a spiegare... L'avvocato, dobbiamo chiudere però adesso. Mi dispiace. Comunque non ingoiati il rospo. Il Colacon sei sempre della vostra parte. Grazie. Grazie, grazie all'avvocato Vito Claut per il suo contributo. Un operaio dell'azienda Emac classe 1973 è caduto da un'impalcatura precipitando da un'altezza di 3 metri. La ditta di via Giotto di Bondone si occupa della fabbricazione di parti e accessori di mobili. L'uomo ha riportato diversi traumi ed è stato elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è ricoverato. Non è però, per fortuna, in pericolo di vita. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Cordovado e dei tecnici dell'ospisal. Abbiamo ora un altro servizio dalla redazione di Udine. Tragedia al confine tra Italia e Slovenia. Un ragazzino di 13 anni è annegato nell'Isonto. Vediamo il servizio di Giovanni Aiello. Un ragazzino di 13 anni è annegato nella giornata di ieri nel fiume Isonto al confine tra Italia e Slovenia. La vittima stava partecipando a un allenamento di kayak quando sarebbe caduta in acqua senza più riemergere. L'allarme è scattato intorno alle ore 16.30 e subito sono intervenuti i vigili del fuoco delle due nazioni che hanno avviato le ricerche fino a quando non hanno trovato il corpo del ragazzino senza vita. L'allarme è stato lanciato dagli amici e dai tecnici della vittima che stavano partecipando al corso di kayak e che non hanno più visto riemergere il ragazzino. Secondo quanto si è appreso, la vittima indossava il giubbotto di salvataggio ma la corrente del fiume lo avrebbe spinto sotto una roccia con la propria imbarcazione impedendone quindi la risalita e provocandone l'annegamento. Appena hanno individuato il ragazzino i vigili del fuoco lo hanno riportato a riva e subito dopo il personale sanitario ha cercato a lungo di rianimarlo. La vittima sarebbe di nazionalità slovena, di Nova Goriza in prossimità del confine con l'Italia. Ed è tornato a trovarci Monsignor Angelo Santarossa, ospite fisso del giovedì, che saluto. Grazie, Monsignor. Senta, allora volevo parlare dei ragazzi che adesso vanno finalmente, possiamo dire. Beh, sì, magari quest'anno l'anno scolastico è stato un po' particolare, comunque le vacanze sono sempre a tese. È stato un piccolo disastro sotto il profilo di rendimento scolastico. Sono andato a vedere in qualche scuola media bocciato, bocciato, insufficiente e quelli superiori devono fare il recupero durante l'estate. Insomma, è un problema questa benedetta scuola e i poveri gli insegnanti che non vadano lì i genitori a prendere per il collo perché hanno bocciato il figlio, perché anche quello succede. No, io dicevo, e adesso voi andate a lavorare, giusto? Se farete un po' di ferie vi capiterà di solito ad agosto. Ma intanto i vostri figli dove vanno? Oh, ci sono i punti verdi, poi qualcuno mi spiegherà cosa sono i punti verdi. Ci sono i campeggi, campeggi, ci sono i centri, c'è di tutto, come no? Non manca niente. Ma a chi li affiderete? Chi sono i responsabili? Ah, tutta gente che ha fatto il corso di animatori. Io ho fatto questi punti verdi quando ero paroco a Monterello, avevo 160 bambini. Mi servivano 20 ragazzi di 20 anni per organizzare i giochi, le passeggiate, le camminate, eccetera. Il panino alle quattro, il bicchiere di tè e quando era la sera ero più stanco che andare a zappare nel campo. Però c'era un'organizzazione, diciamo, adesso non c'è più perché i giovani hanno detto noi abbiamo sacrificato tutto l'anno a scuola, a fare i compiti, a preparare esami, eccetera. Adesso siamo in vacanza o con la bicicletta o col motorino o in qualche altra maniera. Non vogliamo avere nessun tipo di incarico. E allora cosa saltano fuori? Non riguarda il direttore. I nonni, richiamati in servizio i nonni. I nonni devono portare i nipoti a fare calcio, a fare qualche altro sport, in piscina, portarli a fare catechismo o qualsiasi cosa, prepararli da mangiare senza avere nessuna autorità. Perché se per caso il nonno richiama il bambino, allora lui lo dice alla mamma, il papà, la mamma, il papà, dicono, eh no, tu non puoi fare così, tu non puoi dargli una sculacciata se si comportano male e chiamano il telefono azzurro. Allora cosa facciamo? I figli li mettiamo lì. Ne nascono pochi e quei pochi devono essere abbandonati a gente della mia età che magari non è neanche più in grado di guidare la macchina, che stare dietro a uno di questi diventi matto. E dalla mattina alle sette fino alle quattro e mezza del pomeriggio che tornano dal lavoro i genitori. Questo è un problema che non riguarda me o qualcun altro come me, ma riguarda molte famiglie, perché i genitori devono andare a lavorare, devono guadagnare lo stipendio, devono comprare quello che serve per la famiglia, devono sistemare la casa, cioè sono impegnati e allora l'educazione affidata a chi? La scuola non c'è, affidata a chi? Ai nonni, senza averne nessuna qualifica e nessuna responsabilità. E questo è un problema di carattere sociale, di carattere civile, assistenziale, che ovviamente mi fa diventare matto perché molti di questi nipotini, dai 3 agli 13 anni, mi arrivano a frotte durante la settimana a casa, quindi devo sempre tenere un gelato o un succo di frutta o qualche cosa, perché quando vengono a trovarmi, eh, gli devi dare qualche cosa, no? Se no vanno nell'orto o nel fruttetto e ti portano via anche le piante delle fragole. Ma io non faccio miracoli perché mi avesse già trocetisso se fosse così, però poniamoci questo problema. Hanno diritto di fare vacanza, non date compiti per le vacanze, tanto io non li ho mai fatti e non li faranno mai, però diteli che legano un libro, diteli che vadano a giocare. Sì, signore, perché mi dicono che lei è caduto il microfono. Anzi, le cose che dicono sono interessanti e la soluzione è migliore. Comunque, voi siate ottimisti però, il tempo che dedicherete, non importa la qualità, ma la quantità del tempo che dedicherete ai vostri figli, ricordatevi, è il tempo più prezioso e speso meglio, perché diventando grandi vi chiederanno conto di quello che non avete fatto o non avete detto quando avevano l'età giusta. Non spaventatevi, vi auguriamo una buona cena e ne inventeremo qualcun'altra per la prossima settimana. Grazie. E noi lo attendiamo. Grazie a Monsignor Angelo Santarossa. Fuga di gas con esplosione a Breda di Piave nella marca, miracolati due anziani, casa completamente distrutta. Sentiamo cosa ci racconta Alessio Conforti. Un'abitazione quasi rasa al suolo e due anziani miracolati. È questo il bilancio dell'esplosione avvenuta nella notte a Breda di Piave nella marca trevigiana in via Levada al Civico 4. I vigili del fuoco sono intervenuti mettendo in salvo due pensionati, un uomo di 90 anni e una donna di 87. La loro casa ha subito una forte deflagrazione, sembra per una fuga di gas, probabilmente una bombola di GPL. Sta di fatto che l'edificio è parzialmente crollato sul posto, oltre ai pompieri, il suo M118 che ha preso in cura i feriti. L'anziana è stata trasportata all'ospedale Caffoncello di Treviso con forti ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo invece ha rimediato ferite più lievi, in quanto si trovava in una stanza più defilata rispetto al luogo dell'esplosione. L'area è stata messa in sicurezza dai pompieri trevigiani e dichiarata inagibile. E con noi Fabrizio Venier, esponente del Partito Democratico del Friudo Occidentale. Buonasera Venier. Buonasera. Allora, l'argomento che accende i dibattiti in questi giorni, ne abbiamo parlato anche ieri sera, è l'intervento del Vaticano sul DDL Zanno. Lei cosa ne pensa? Io adesso esprimo il mio parere. Io credo che sia l'occasione, in questo caso, tutti siamo liberi di dire e di chiedere delle cose. L'intervento del Vaticano fa riferimento al concordato. Il concordato, a suo tempo, nel ventennio, poi fu riproposto, modificato in parte nell'86 dal governo Craxi. Bene, io credo che a questo punto la sinistra si dovrebbe porre il problema di aprire un dibattito sul tema del concordato. Io sono perché si inizia a discutere sul senso che uno Stato laico deve avere un concordato e, se non vado errato, siamo l'unico Stato che ha un concordato con il Vaticano. Siamo una società laica, siamo per la libertà religiosa, siamo per dare importanza al ruolo che la Chiesa, le Chiese fanno nella società, ma è anche opportuno cominciare a dire che forse non serve più il concordato. È opportuno dirlo con chiarezza. È legittimo che il Vaticano dica quello che ha detto. Ho apprezzato molto l'intervento di Draghi, non mi è piaciuto assolutamente l'intervento molto strumentale della Meloni, questa nuova Giovanna d'Arco della destra, dove magari la destra a volte predica bene e razzo la male nel suo mondo a livelli anche personali. Io mi ricordo quando ci fu il dibattito sul divorzio, sull'aborto, tutto all'establishment conservatore che nella loro vita privata aveva e contraddiceva tutto quello che veniva e si andava a fare in piazza. E' ora di finirla. E' ora che la sinistra prenda in mano questa cosa e senza tanta titubanza inizi a fare un ragionamento sul senso di un concordato in Italia. Questo è quello che penso io. Quindi lei sostiene che i patti lateranensi del 1929 ormai sono superati, non lo so, ognuno, ogni cittadino dovrebbe fare questa cosa. Questo non significa non dare importanza al ruolo. Noi siamo una società, una cultura che nasce cristiana sicuramente, dopo ognuno di noi la interpreta a suo modo. Nessuno vuole mettere in discussione questo. Io voglio mettere in discussione il fatto che il concordato, siamo l'unico paese in Europa che ha un concordato con la città del Vaticano. Boh, col Vaticano. Perché? Mi scusi, prima di finire, volevo però intervenire perché onestamente l'intervento dell'Avvocato Kraut mi ha francamente, uso un termine, infastidito. Il termine è preciso. Sarebbe opportuno dire all'Avvocato Kraut che se non ci fossero stati i vaccini, forse questa sera noi qui non ci saremo senza le mascherine o con le mascherine. Perché i vaccini hanno ridotto la mortalità. Questo è un dato oggettivo, è un dato reale. Non credo che i milioni di persone che si sono vaccinati siano tutti completamente rimbecilliti. Allora, facciamo così... No, no, mi scusi, finisco un attimo. Allora, il tema è questo. Soprattutto per chi lavora nell'ambito sanitario è doveroso che segua delle regole. Mi scusi, un camionista, quando guida, deve avere un livello alcolico zero. Siamo d'accordo? È una regola? È una regola che salva a guardia a tutti. Quelli che guidano e quelli che non guidano. Bene. Tu lavori in un ambito sanitario, io vado in ospedale e io ritengo che tu, per questo motivo, ti vai a fare il vaccino. O se no, prendi e fai un altro mestiere. Punto! Scusi, ho finito. No, allora, siccome parlavamo anche prima con l'Avvocato, c'è l'intenzione di organizzare un dibattito su questo argomento, la invito a partecipare. Sì, io la ringrazio. Il dibattito però si fanno sui dati, sulle cose, non sulla demagogia Novax, che l'amico Claude... L'amico Claude, cioè, lui parla da giurista, lui non dà dati scientifici, parla da giurista. Lei parla da... Anche lei da... Da cittadino, da normale, da qualsiasi persona. E inviteremo anche due, magari, due virologi, magari di schieramenti opposti, e organizziamo sta cosa. Perfetto, va bene. Ci sarò sicuramente. Grazie a lei. Si perde in montagna di notte, paura nel bellunese per una turista straniera. Si perde in montagna, al calar del sole, ma viene recuperata e messa in salvo dal soccorso alpino. Notte di paura per una turista lettone nel bellunese. Ieri sera, attorno alle 23.15, il soccorso alpino di Cortina d'Ampezzo era stato allertato a seguito dell'allarme lanciato dal rifugio Biella, dove erano arrivati tre escursionisti che avrebbero dovuto incontrarsi lì con l'amica partita dal lago di Braies e mai arrivata. La donna aveva iniziato la salita verso le 18 e l'ultimo contatto risaliva alle 20 quando aveva detto ai compagni di essersi persa. Attorno alle 20, peraltro, era scoppiato un forte temporale e il cellulare della turista non era più raggiungibile. Fortunatamente, attorno all'una, la donna è stata ritrovata illesa dalla squadra in salita sopra il lago l'allarme. Alla fine è rientrato nel bellunese e nel vicino pordenonese sono ore di cordoglio per la scomparsa di Anna Maria Nerosi, la cinquantenne veneziana con un'attività aerto e casso precipitata per 150 metri durante un'escursione in Val di Zoldo scivolando dalla cresta degli sfornioi mentre si trovava in compagnia con due amici. mancano sette giorni all'avvio del tradizionale appuntamento dei giovedì sotto le stelle a Pordenone anche quest'anno negozi aperti e tante iniziative le anticipazioni nel servizio di Tania Pellegrini Conto alla rovescia per la partenza dei giovedì sotto le stelle per cinque settimane dal primo al 29 luglio i giovedì saranno l'occasione per vivere Pordenone immersi in un'atmosfera magica i cittadini potranno godersi un buon gelato passeggiare per il centro città e anche fare shopping lontano dal caldo giornaliero e accompagnati da musica spettacoli di intrattenimento e artisti di strada di vario genere anche quest'anno il colore dei giovedì sotto le stelle sarà il blu che verrà declinato in diversi strumenti a forma di stella per creare forte identità alla manifestazione e rendere facilmente riconoscibili le attività che aderiranno lo slogan star a Pordenone è volutamente un gioco di parole stare a Pordenone ma anche stella a Pordenone la realizzazione del concept grafico è stata affidata allo studio centrone design che ha voluto sottolineare in maniera forte l'elemento che da anni caratterizza i giovedì dell'estate di luglio a Pordenone ovvero le stelle in cinque punti strategici del centro saranno posizionate cinque stelle dal diametro di 40 centimetri contornate da altrettante stelle di più piccole dimensioni in prossimità di ogni stella accadrà qualcosa di diverso che verrà comunicato all'inizio della settimana invitando le persone che camminano per le vie del centro a cercare la stella dove l'evento si svolgerà l'intento è di coinvolgere tutte le attività presenti lungo la passeggiata negozi e bar portando i visitatori a passare delle serate indimenticabili e ricche di sorprese in una città dalle mille sfaccettature diverse sono le proposte che sono state create per gli operatori commerciali per legare e coordinare tra loro i punti vendita la locandina le stelle da appendere all'interno della vetrina le stelle da banco i braccialetti in raso e tanto altro ancora allora sono alle porte le olimpiadi e le paraolimpiadi a rappresentare il friulio occidentale ci saranno Daniele Molmenti in qualità di direttore tecnico della canoa ci sarà Giada Rossi nel tennis tavolo e Mirko Zanni per il sollevamento pesi mentre anche Alessia Trost nel salto in alto sta ancora sperando nella qualificazione questa sera iniziamo con l'intervista al campione olimpico di Londra 2016 Daniele Molmenti che ci ha proprio raccontato la preparazione e le aspettative della sua squadra la squadra che allena la nazionale azzurra di canoa per appunto Tokyo 2021 Daliele Molmenti campione olimpico di canoa ai giochi olimpici di Londra 2012 adesso direttore tecnico nazionale sta preparando la squadra azzurra per i giochi olimpici di Tokyo come sono i ragazzi cosa vede in questa preparazione abbiamo qualificato tre barche su quattro quindi una bella percentuale abbiamo Giovanni De Gennaro di Brescia Marta Bertoncelli di Ferrara e Stefani Horn anche lei di Brescia sono tre atleti in una curva di crescita positiva stanno portando avanti ottimi allenamenti una preparazione ideale per Tokyo Giovanni De Gennaro nel K1 la mia disciplina lo seguo direttamente quest'anno ha già preso anche una medaglia importante ai campionati europei quindi insomma fa ben sperare Stefani Horn negli anni ha preso anche lei delle medaglie quindi ha già dimostrato di essere tra le VIP tra le atlete più forti e Marta Bertoncelli sta crescendo è la sua prima Olimpiade a 19 anni quindi può essere un'esperienza sicuramente importante per la sua carriera per quanto riguarda la preparazione vista la sua esperienza personale che cosa cambia da atleta a tecnico adesso? da quando ho smesso nel 16 ho completato il mio ciclo di studi mi sono formato e mi sono messo a disposizione con scienza coscienza e l'esperienza da atleta in acqua per questi ragazzi ora ovviamente cambia tutto perché vivendolo da fuori devo avere una mentalità completamente diversa quindi da un lato mi devo immedesimare in quello che provano i ragazzi per capire da dove nascono i loro problemi dall'altro lato devo mettere un po' il camice bianco e andare a studiare il perché e come risolvere questi problemi il lavoro sta pagando bene sono ormai tre anni quattro anni insomma che tutta la nazionale sta crescendo quindi qualcosa diciamo di positivo lo stiamo facendo ho anche un grande staff perché da direttore tecnico ho la fortuna di poter scegliere lo staff che mi dà una mano e tra ex atleti per Paolo Ferrazzi che è stato anche il mio tecnico Eric Masoero e altri della squadra stiamo facendo un ottimo lavoro tra i ragazzi appunto ha menzionato ovviamente gli atleti che parteciperanno alle olimpiade di quest'anno c'è qualcuno che potrebbe guagliare l'oro suo di Londra non sono scaramantico ma nel nostro sport è molto difficile fare previsioni voi lo sapete basta vedere l'immagine che basta 5 centimetri di onda in meno in più e può cambiare il risultato di certo abbiamo degli atleti che hanno già dimostrato di poter essere nei top 5 l'obiettivo è infatti quello di andare in finale che la top 10 non dico che sia facile però l'obiettivo diciamo concreto realistico è quello lì poi in finale secondo me ce la possiamo giocare perché diciamo che questi due anni non tutte le nazionali sono riuscite ad allenarsi come noi come noi in Italia la maggior parte degli atleti sono militari quindi non era solo fare sport all'aria aperta era fare il nostro lavoro quindi grazie a questo governo e alconi ci ha permesso e soprattutto i gruppi sportivi ci ha permesso di portare avanti una preparazione che devo dire un anno di ritardo di queste olimpiadi per quanto riguarda la sua esperienza chiaramente alle olimpiadi passate principalmente quella di Londra che cosa si ricorda in particolare quali emozioni le vengono a mente se ci ripensa Londra è stato l'apice della mia carriera è stato il giorno degli esami dopo aver studiato davvero tanto le emozioni sono tante ora i ricordi sono molto molto concreti anche quindi c'è l'appagamento ecco di un percorso difficile lungo da atleta e forse c'era già il il primo il primo inizio ecco di un atleta che ricercava già una metodologia di allenamento particolare che poi adesso ho riportato in nazionale quindi c'è stato sicuramente la fine di una grande carriera ma anche l'inizio di quello che è ora restiamo nello sport perché siamo con Dario Piccinin consigliere del rugby Pordenone buonasera Piccinin buonasera anzi Dario cediamo dal tu perfetto e allora ieri sera a Borgo Meduna in via Mantegna nel quartier generale del rugby di Pordenone c'è stato un evento importante sì abbiamo finalmente potuto fare un'inaugurazione ufficiale della nuova palestra abbiamo costruito questo piccolo palazzetto dove ci sono 100 metri quadri di palestra con vari attrezzi che servono per il potenziamento dei nostri atleti e più ci sono due spogliatoi collegati il progetto è nato ormai credo 5 anni fa grazie a chi ci ha preceduto nella dirigenza precedente e tutto nasce dall'esigenza di avere dei nuovi spazi soprattutto degli spogliatoi dove poter far crescere il rugby femminile avevamo in quegli anni e anche nell'ultimo periodo un numero di ragazze sufficientemente alto da dover creare degli spazi da poter utilizzare dedicati per loro negli stessi orari in cui ci sono i maschietti e a quel punto abbiamo accettato la sfida di metterci in gioco un progetto da 400 mila euro 200 mila euro messi dalla regione e 200 mila euro messi dal porto noneregui è una struttura che nelle nostre intenzioni nei prossimi mesi diventerà anche appena possibile appena possibile sarà finita tutta questa cosa di questa pandemia di poter dare la possibilità anche al quartiere di utilizzare durante il giorno questa parte della struttura noi ce l'abbiamo messa tutta la struttura è venuta bella funzionale ci aspettiamo di riuscire a farla di dare ancora qualcosa in più al quartiere non avere solo per come ci vedono tre campi da rugby e un campo da calcio e gestione dare un polisportivo aperto al quartiere anche perché appunto il rugby a Pordenone a Borgomeduna ha adesso un patrimonio di impianti davvero invidiabile non so quante società non solo regbistiche qua nei dintorni possono avere una disposizione un ben di dio del genere no c'è da ringraziare chi ha messo il semino più di 40 anni fa esatto non possiamo dimenticare assolutamente Paolo Quirini che è quello che ha portato un semino lui in quel momento aveva del carburante aveva un sacco di ragazzi da poter mettere in campo non aveva un campo una struttura è arrivato qualcuno che ci vedeva oltre che è il signor Santin che gli ha dato la possibilità di utilizzare un campo e i garage i depositi che aveva sotto l'hotel per poter cominciare a fare delle rugby a Portenone e da lì è partito ci sono stati vari passaggi in questi anni ognuno di quelli che ci hanno preceduto una dirigenza ha portato qualcosa ha dato il contributo c'è chi è riuscito ad avere il primo campo c'è chi è riuscito ad avere il secondo chi è a mettere i pali chi è a fare una recinzione chi è a costruire la clubhouse e noi vogliamo continuare in questo progetto non solo a costruire il contenitore perché per fare un contenitore da 400 mila euro è facile trovi le imprese e metti dentro il problema poi è riuscire a mettere dentro trovare i soldi non è trovare i soldi non è mi preoccupa di più in questo momento riuscire a continuare a dare la possibilità a dei ragazzi di sfruttare quello che abbiamo non solo i nostri giocatori noi aspettiamo come abbiamo detto una squadra di calcio sul campo da calcio ospitiamo una squadra di football americano che ha gli stessi problemi che avevamo noi 40 anni fa come rugby non c'era nessuno che ti dava uno spazio dove poterti allenare noi li aspettiamo siamo felicissimi di dare questa possibilità vorremmo poter continuare a crescere così vorremmo poter dare quei 70 mila metri di prati che abbiamo al quartiere come parco di sfogo in modo che sia realmente un punto sociale dove potersi trovare un polmone verde un polmone verde è l'unico parco che c'è a Borgomeduna poco distante dal centro cittadino certo abbiamo la nostra club house non è ancora completa perché fa sempre parte del progetto che stiamo portando avanti nei prossimi mesi vi inviteremo anche per l'inaugurazione di quella stiamo ampliando perché i numeri sono sempre più grandi abbiamo sempre più bisogno di spazi benissimo grazie in bocca al lupo a Dario Piccinini e ovviamente a tutto il rugby Pordenone grazie mille abbiamo incontrato questo pomeriggio Flavio Mucin San Vittese make up artist di fama internazionale che insieme al fotografo e amico Renzo Daneluzzi ha organizzato un tritico di appuntamenti dedicati alla bellezza femminile ce ne parla lui stesso siamo con Valentina ciao Valentina e con Flavio Mucin make up artist di esperienze e curriculum internazionali ecco per i pochi che ancora non ti conoscono racconta chi sei e cosa fai salve sono Flavio Flavio Mucin mi occupo di di make up sono un make up artist ed un esperto di immagine lavoro da tantissimi anni in questo settore e mi occupo di shooting fotografici mi occupo di di moda ho partecipato alla mostra del cinema di Venezia ho fatto il lavoro con le wedding planner dopo tutto quello che riguarda il servizio anche sposa questo è il mio il mio lavoro ecco si parlava appunto di curriculum internazionale tu hai citato la mostra del cinema di Venezia tra le tante attrici le tante star internazionali che hai potuto avvicinare proprio durante questa kermesse c'è qualcuna che ti è rimasta magari nel cuore sì la mostra del cinema è un appuntamento comunque veramente internazionale ed è stato per me veramente un momento magico come lo è il mondo del cinema diciamo ho avuto l'occasione di incontrarla per un attimo e ci tenevo tantissimo a conoscerla proprio la sera a cui è stato consegnato l'Oscar alla carriera ed è stato un momento per me magico con Claudia Cardinale ma ce ne sono comunque molte altre che ricordo comunque con piacere ecco adesso si approssima un evento il terzo di una serie di un tritico di eventi che avete organizzato tu e Renzo Daneluzzi fotografo glamour in arte Renzo Profili un ciclo di serate dedicate alla bellezza di ragazze donne giovani e meno giovani sì un progetto dedicato alle donne un progetto che è iniziato con una scuola di portamento una scuola di bonton e sarà con me insieme a Renzo Daneluzzi e Francesca Daneluzzi lunedì 28 alle 17 all'hotel Santin io parlerò di make up farò una scuola di make up parleremo di tendenze moda dedicate comunque già all'autunno e inverno e svelerò insomma i segreti per un make up facile anche da da eseguire restiamo nell'ambito perché è venuta a trovarci Zoe Battiston che è la vincitrice della prima selezione del concorso Miss Universo in Friuli Venezia Giulia che si è tenuta sabato 19 al ristorante Adriatico a Vilotta di Chion buonasera Zoe allora ho detto giusto sei tu la vincitrice ecco raccontaci un po' di te da dove vieni cosa fai nella vita allora sono di pre maggiore sono una studentessa del liceo Marco Belli di Portogruaro e niente ho partecipato a queste selezioni regionali ma è stato il tuo esordio era il primo concorso che facevi ho partecipato anche l'anno scorso solo che essendo minorenne mi hanno dato il titolo di Miss Academy e niente quest'anno ho avuto l'età cioè un'età più opportuna per partecipare al concorso di Miss Universo e quindi adesso che hai vinto la prima tappa come procede il tuo percorso? e niente dovrò aspettare le altre finaliste con cui partecipare all'ultimo concorso e in base a quello vedrò se andare su a Roma e in caso anche andare a fare le finali nazionali e internazionali te lo auguriamo senti ma come ti sei avvicinata al mondo delle passerelle? immagino tramite Cinta Baradella e Peter Stefanutto sì avevo questa amica che è amica comune della Cinta mi ha passato il numero e niente mi ha dato questa opportunità di partecipare al concorso senti ma tu pensi di come dire di fare la modella da grande come professione o hai altre ambizioni? avrei l'ambizione di diventare psicologa però il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di diventare una modella quindi insomma continuerai a studiare? sì sì sicuramente bene in bocca al lupo Zoe per il concorso di Miss Universo e per tutto il resto abbiamo un ospite anche in Veneto perché con Alessio Conforti c'è Corrado Sandrin che è il presidente di ConfCommercio di Carle grazie con Corrado Sandrin che è il presidente di ConfCommercio Carle perché dopo ovviamente le chiederò anche come sta andando la stagione domanda d'obbligo però viabilità questione terza corsia ma anche questione strade che conducono verso la località balneare presidente a che punto siamo visto che lei oltretutto ha preso anche una posizione ufficiale su questo? beh la terza corsia è importantissima è un'opera che va assolutamente fatta c'è un altro problema a Sanstino che è quello dello spostamento del casello programmato dai lavori un casello che a mio giudizio potrebbe anche essere corretto in quello che è attualmente andando a risparmiare parecchi soldini parliamo di 65 milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti in opere non così faraoniche ma appunto e qui veniamo alla domanda di Alessio per l'utilizzo della provinciale Sanstino Caorle che versa in condizioni pietose una strada che è un po' un biglietto da visita per chi arriva a Caorle e che attualmente è veramente in uno stato di abbandono totale tre anni fa sono stati fatti dei lavori e hanno grattato di fatto l'asfalto e l'hanno lasciato lì non è stato più rimesso il manto stradale l'asfalto si è deteriorato creando degli avallamenti e delle buche incredibili per una strada che dovrebbe essere un'arteria principale proprio per l'arrivo del turismo a Caorle nella nostra località più vicina tra l'altro Presidente intervengo perché sia su quel tratto che faceva riferimento lei ma anche su quello che per capirci dalla rotonda di Sette Sorelle verso Ottava Presa gira invece verso Porto Gruaro anche quel tratto lì di provinciale che invece quello è la 42 è caratterizzato insomma da questa situazione anche che crea un pericolo perché tanti automobilisti addirittura passano nella cossia opposta pur di non insomma percorrere questi avallamenti ecco giusto per inciso beh purtroppo la città metropolitana ci ha un po' dimenticati in questo caso la situazione stradale delle arterie provinciali è veramente deprecabile e avrebbe bisogno di una ricostituzione in essere di quello che può essere la una strada che vede la percorrenza di numerosi veicoli tutti i giorni veicoli tra l'altro anche pesanti perché ricordiamo che le strade tutte le due strade provinciali sono percorse da camion da trattori da quei camion che si riempiono anche di barbabietole di di altre colture che vengono fatte durante la stagione per cui va a gravare Presidente come sta andando la stagione? La stagione diciamo che può andare anche abbastanza bene nel senso che si è aperta fortunatamente anche il meteo ci dà una mano sotto questo punto di vista la gente viene volentieri si riapre il turismo il turismo soprattutto il turismo straniero il turismo di lingua tedesca mancano ancora il turismo che viene dall'est che per noi era un contava dei numeri importanti però attualmente possiamo essere discretamente contenti e speriamo che la situazione non faccia altro che migliorare quello di casa nostra turismo di casa nostra invece? Turismo di casa nostra c'è 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 un po' più di difficoltà alla propensione alla spesa però diciamo che i conti tornano dopo speriamo che sia ovviamente meglio del 2020 grazie presidente grazie a voi linea Ponte None allora tornando a parlare di sport vi ricordo che oggi abbiamo sentito Daniele Molmenti domani sentiremo Giada Rossi la nostra atleta del tennis tavolo e nei prossimi giorni sentiremo anche Mirko Zanni atleta del sollevamento pesi sperando incrociamo le dita che anche Alessia Trost sia tra i qualificati vi ricordo anche che domenica alle 19 in luogo del TG andrà in onda uno speciale una speciale intervista con Mal Paul Bradley Cooling in arte Mal dei Primitives che ci parlerà appunto di questa annunciata reunion della sua band storica i Primitives che ritorna a cantare a suonare assieme dopo quasi 40 anni ecco abbiamo ora un altro ospite con Alessio Conforti Matteo Bortolussi e poi come consuetudine abbiamo Meteo Break pubblicitario e ancora notizie ospiti dalle redazioni di Udine e del Veneto quindi non andate via grazie in città ben trovato ovviamente perché è ora di fare i conti anche con questa situazione parlando ovviamente di agricoltura certo il problema è un problema ricorrente che avevamo già affrontato in passato il territorio è un territorio fragile che sempre di più ha bisogno appunto d'acqua e di irrigazione perché sappiamo che i costi dell'agricoltura sono sempre in aumento e quindi dobbiamo dare anche la possibilità all'agricoltore di riuscire a portare a casa poi quello che semina quindi sicuramente è un tema che avevamo già sollecitato e va sollecitato fortunatamente ieri sera ne ho parlato un attimo con il sindaco di Cinto che mi ha detto che ha messo a disposizione 10.000 euro per fare un progetto appunto che difenda il nostro territorio sia dall'acqua ma che anche ce la dia quando ne abbiamo bisogno e sicuramente nei prossimi anni è un tema che va tenuto in prima linea insomma tenuto in costante controllo anche i consorzi bonifica dovrebbe intervenire beh il comune fa solo il disegno poi il consorzio di bonifica con la regione fanno l'opera diciamo però il nostro territorio va tutelato perché negli ultimi anni soprattutto l'area qua del Cinto eccetera è stata un po' diciamo messa da parte infatti abbiamo un'idrovora molto vecchia e va sicuramente sistemata per mettersi in sicurezza quando piove per darci l'acqua quando ne abbiamo bisogno in questi giorni proprio vedo che alcune aziende le più grosse stanno iniziando a irrigare ma chi non ha la possibilità di irrigare o se non abbiamo acqua sufficiente perde il raccolto e quindi vuol dire un danno veramente importante già a un'agricoltura che soffre tra l'altro anche un tema che ha visto dei cambiamenti importante soprattutto da un punto di vista del clima perché chiaramente si può magari assistere a giorni e giorni e giorni senza pioggia ma questo è un tema che ormai è 4-5 anni che affrontiamo noi vediamo dei periodi magari di 7-8 giorni di una pioggia torrenziale e poi un mese senza acqua e l'agricoltura è sempre più in difficoltà perché l'acqua è strategica per il settore ecco parlando di agricoltura quali altri temi insomma devono essere affrontati ma l'agricoltura è un tema importante il settore primario è importantissimo e può dare in questo momento di crisi e di difficoltà veramente dei benefici dei posti di lavoro io ho sempre creduto e credo sempre di più ai giovani in agricoltura e voglio fare anche un appello magari approfittare di questo momento per dire mettetevi in agricoltura ci sono ancora delle aree dove possiamo lavorare dove possiamo portare a casa dei risultati positivi assolutamente un tema importante è questo appunto e c'è anche la necessità magari di trovare della mano d'opera che scarseggia nuove braccia e nuove teste che si mettano nel settore sono fondamentali perché le aziende devono essere comunque svecchiate sono aziende che magari hanno i titolari che hanno già un'età da pensione e sicuramente i giovani sono fondamentali nel settore anche perché è un mondo che è in continua evoluzione così come si pensi anche per esempio alle macchine agricole che non sono più come quelle di un tempo ma necessitano appunto anche di figure capaci di utilizzarle certamente è in continua evoluzione ed è un settore che comunque nonostante la crisi tiene da sempre magari piccolo ma reddito lo dà e ti consente di tenere duro in un momento difficile come questo dove magari altre realtà tipo quella alberghiera alberghiera o di ristorazione soffrono in maniera importante il settore agricolo comunque ha dato sempre degli sbocchi qua noi nel territorio abbiamo il settore del vino che comunque tira a livello europeo e sicuramente è un percorso da continuare a seguire grazie Matteo Bortolussi buonasera linea a Pordenone buonasera a tutti la situazione meteorologica è caratterizzata ancora da instabilità che anche domani potrà manifestarsi sulla regione con qualche temporale pomeridiano in montagna ma localmente anche in pianura e forse anche domani potremo raggiungere la costa qualche temporale potrà essere di forte intensità temperature ancora elevate ancora caldo ma meno rispetto alla giornata di oggi quindi ci aspettiamo sempre 30 gradi in pianura 27 sulla costa ma chiaramente più gradevoli e meno umidi situazione migliore nella giornata di sabato quando il tempo sarà più stabile sarà solo qualche nuvolamento in montagna ma direi senza precipitazioni temperature di nuovo in lieve aumento anche tanto un po' di borino il mattino specie sulla costa però sempre abbastanza asciutta la giornata domenica torniamo ad avere qualche possibilità di isolato rovescio o temporale in montagna invece in pianura e costa continueranno ad avere bel tempo sereno e temperature di tipo estivo ma non più particolarmente affose direi che è tutto una buona serata ben ritrovati gentili telespettatori dalla redazione di Udine Gorizia e Trieste di Telepordenone una nuova edizione del telegiornale che apriamo subito sono sotto indagine 11 persone di nazionalità cinese per il reato di riciclaggio di denaro sentiamo tutti i dettagli nel servizio la guardia di finanza di Udine ha scoperto un'attività finanziaria abusiva e riciclaggio all'interno di una sala slot nell'inchiesta sono indagati 11 cittadini cinesi l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo per un importo di oltre 2 milioni di euro consentendo in fase di esecuzione di apporre il vincolo cautelare su beni e disponibilità finanziarie del valore di 650 mila euro il principale indagato è il titolare di una sala slot di Manzano dallo stesso acquistata e gestita attraverso un prestanome l'indagine prende spunto da un preventivo monitoraggio delle sale slot presenti nel territorio frullano al fine di intercettare i possibili fenomeni illegali e di reimpiego del denaro realizzato attraverso il gioco sono state prese in esame numerose segnalazioni di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio inoltrate dall'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza le indagini coordinate dalla Procura di Udine sono state sviluppate mediante le analisi delle movimentazioni bancarie realizzate dalla sala slot a favore di numerose persone di origine cinese a seguire i finanzieri di Cividale del Friuli con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata hanno eseguito in diretta le attività condotte all'interno della sala slot attraverso l'installazione di videocamere occulte in questo modo sono state individuate reiterate consegne di denaro contante anche per rilevanti importi non ricollegabili all'attività di gioco formalmente autorizzata intervento di soccorso per un parapendista in seguito a un atterraggio di emergenza alle ore 16.20 della giornata di ieri è arrivata la chiamata per la stazione di Udine del soccorso alpino per soccorrere un parapendista polacco del 1983 rimasto impigliato con la sua vela su un albero a una decina di metri dal suolo sul monte Prat la segnalazione è arrivata da una persona del luogo che lo ha visto cadere nella fitta vegetazione sul posto è arrivato prima l'elisoccorso regionale che ha sbarcato poco lontano il tecnico di elisoccorso il quale si è arrampicato sull'albero assicurando e sganciando il pilota dalla vela e calandolo a terra in sicurezza in colume i tecnici della stazione di Udine sono stati impegnati alcune ore per recuperare la vela si sono a loro volta arrampicati sull'albero e dotati di una moto sega per disimpigliarla dai rami sul posto anche i vigili del fuoco l'ambulanza e il 118 quinto appuntamento di questo 2021 per il Rail Safe Day l'operazione di polizia di stato nelle principali stazioni del Friuli Venezia Giulia 194 le persone controllate da oltre 60 operatori del compartimento della polizia ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia nell'ambito della quinta operazione Rail Safe Day del 2021 i controlli straordinari sono disposti su tutto il territorio nazionale dal servizio polizia ferroviaria per impedire il verificarsi dei comportamenti anomali e impropri come ad esempio l'indebita presenza di persone sulle linee ferrate o nei pressi dei passaggi a livello il superamento della linea gialla nelle stazioni e l'incauto attraversamento dei binari nel corso delle attività sono state controllate 34 tra stazioni ferroviarie e altri siti in tutto il territorio regionale una quarantina di veicoli gli agenti della Polfer di Udina hanno controllato nove scali della provincia rintracciato e denunciato due cittadini algerini che si erano introdotti abusivamente negli stabili dismessi dalle ferrovie dello Stato di italiane in via Giulia risultando anche inosservanti all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale sono state inoltre elevate due sanzioni per la violazione del regolamento di polizia ferroviaria a Gorizia invece la Polfer del capoluogo Isontino presso la locale stazione ha fermato un gruppo di tre cittadini cossovari irregolari privi di documenti due dei quali minorenni che dopo la procedura di fotosegnalamento presso la locale questura sono stati affidati ai donne e strutture d'accoglienza è stata approvata all'unanimità in aula del consiglio regionale la proposta di legge 101 per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare sentiamo allora la soddisfazione di Andrea Ussai consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle e relatore di questa proposta di legge di Mauro Bordin consigliere regionale della Lega parliamo di questa proposta di legge che ha ottenuto l'unanimità dell'aula dopo che già in commissione vi eravate trovati d'accordo sì una legge importante perché promuove la diffusione di quelle che sono le pratiche e la cultura del primo soccorso quindi le manovre di sostituzione pediatrica di rianimazione cardiopolponare che provvede anche all'utilizzo del defibrillatore e quindi è una legge che ci ha visto tutti uniti nell'interesse dei cittadini la conoscenza delle tecniche salvavita di primo soccorso l'utilizzo dei defibrillatori la possibilità di intervenire con la rianimazione cardiopolmonare sono fondamentali per salvare vite umane e naturalmente sono ancora più fondamentali quando parliamo di bambini che purtroppo per avventatezza per inesperienza talvolta compiono dei gesti avventati che possono avere conseguenze letali far sì che oggi il personale scolastico genitori famiglie educatori tutti coloro che in qualche modo hanno quotidianamente a che fare con i bambini conoscono queste tecniche permetterà di salvare vite e anche solamente una vita significa un miracolo compiuto da questa legge il fatto che ci sia stata una limità di approvazione è un consenso unanime da parte di tutti dimostra che abbiamo colto nel segno e che c'è comunque una maturità da parte di tutti sul fatto che è importante oggi fare il possibile per prevenire eventi che magari consideriamo improbabili ma purtroppo capitano ancora quindi un consiglio regionale unito per salvare vita umana in questo caso per salvare la vita di bimbi Il dipartimento di area medica dell'università degli studi di Udine ha presentato la nuova scuola di specializzazione in malattie infettive La sede di Udine è divisa appunto in due presidi quello di Udine e quello di Trieste perché venire a studiare in questi ospedali perché la nostra scuola di specializzazione è una scuola che è contaminata anche dalle altre discipline grazie al Covid-19 abbiamo instaurato dei rapporti stretti abbiamo lavorato negli stessi reparti sia con gli urgentisti sia con gli pneumologi con gli intensivisti e gli internisti quindi questo ci ha permesso a noi come professionisti di crescere e anche ai colleghi che sono in formazione di avere un aspetto multidisciplinare che può essere utile in tutti gli aspetti della vita lavorativa futura di un medico in formazione Per quanto riguarda l'attività della clinica c'è da dire che il numero di specializzanti non è estremamente elevato e questo ci consente di avere un ruolo molto attivo nella routine di tutti i giorni e soprattutto di avere un continuo confronto diretto con i nostri medici strutturati che sono per noi un riferimento e con i quali sappiamo di avere la possibilità di confrontarci e condividerci in maniera continua solitamente nel primo anno ci si cimenta soprattutto nell'attività di reparto quindi con i recovery in regime ordinario e eventualmente un pochino con l'attività dei hospital negli anni successivi si inizia appunto anche ad approfondire le parti più ultra specialistiche con gli ambulatori che abbiamo attivi come ad esempio l'ambulatorio HIV l'ambulatorio di infezioni dell'osso sostanzialmente l'ambulatorio anche delle gravidanze e l'ambulatorio pediatrico l'apprendimento avviene principalmente sul campo discutendo in equipi casi clinici e confrontandosi con gli strutturati e colleghi in questo senso anche l'esperienza del Covid si è trasformata in un'opportunità che ci ha permesso di lavorare con altri specialisti come intensivisti internisti e ci ha permesso di ampliare così lo spettro della nostra formazione la rete formativa si articola principalmente negli ospedali di Udine e di Trieste chiaramente nei reparti di malattie infettive purtroppo abbiamo un'altra epidemia in atto da alcuni decenni che è quella delle infezioni da batteri e funghi molti resistenti su questi l'ospedale di Udine e l'ospedale di Trieste da sempre si sono impegnati sia nell'approccio a queste infezioni sia nella ricerca e quindi abbiamo la possibilità di partecipare numerosi studi internazionali multicentrici oltre che di approfondire anche insieme al laboratorio altri campi di ricerca dalla clinica al vitro e viceversa quindi from the bedside to the benchside e viceversa e quindi questo può essere un ulteriore stimolo per venire a studiare a Udine ultimo appuntamento sul tagliamento questo è il titolo del libro scritto da Daniele Paroni e presentato ieri a Trieste il libro ripercorre la tragedia di Nadia Orlando originaria di Vidulis di Dignano uccisa il 31 luglio 2017 dall'ex fidanzato Presidente Zanini l'abbiamo vista particolarmente presa la presentazione del libro di Paroni l'ha fatto come Presidente del Consiglio o come uomo? Innanzitutto come uomo leggere la cronaca e il libro che ha scritto Daniel Paroni ultimo appuntamento sul tagliamento è veramente un pugno allo stomaco perché specialmente nel corredo fotografico a questo libro si vede una Nadia Orlando felice sorridente pensare quello che ha subito il fatto che non c'è più per la violenza di un uomo su una ragazza non può che farci interrogare su una questione culturale che dobbiamo estirpare anche grazie a questo libro che è quella che l'uomo non deve immaginare che l'amata sia in suo possesso e possa fare quello che vuole rispetto a questo grande senso umano e civico la testimonianza della madre che ripercorre in maniera tragica ogni volta che racconta questa storia ha momenti che magari non vorrebbe immaginare ma lo fa per portare una testimonianza per cercare di creare quella coscienza che possa salvare anche solo una persona dalla violenza questo sarebbe per lei un risultato straordinario e noi questa dignità questo valore non possiamo che esaltarlo come assemblea legislativa della regione Florenzia Giulia insieme anche ad una legge presso presso entrerà in votazione in aula un disegno di legge che ha trovato una unanimità all'interno di un comitato di ristretto proprio sulla violenza alle donne la prima firmata è la consigliera Mara Piccin e mi auguro che su questo tutto il consiglio si stringa per scrivere anche sulla pietra della legge che la nostra regione è una regione che condanna la violenza in ogni campo ma specialmente alla violenza sulle donne un libro per raccontare in 80-90 pagine il dramma di Nadia Orlando fondamentale è il supporto della sua mamma quella sì che è stata la testimonia della sua vita è un modo anche per sensibilizzare soprattutto noi maschi maschietti che il problema della violenza di genere è tutt'altro che tramontato e quindi io dico denunciate non aspettate il secondo schiafo per denunciare in più c'è anche uno sfondo benefico una parte di quello che riuscirò a ricavare dalla venda di questo libro andrà una bambina che oggi ha 11 anni che 9 anni fa ha perso una mamma anche lei nell'ambito di un femminicidio e quindi un supporto alla piccola Alessandra prima l'abbiamo sentito dire mi piacerebbe che gli uomini si costituissero parte civile sì mi piacerebbe proprio che gli uomini si costituissero parte civile mi sono rivolto ai consiglieri regionali perché sarebbe bellissimo fare una class action quando una donna viene uccisa e costituirsi parte civile si chiedere i danni rovinarlo definitivamente ma non solo economicamente ma sarebbe proprio una bella presa di posizione da parte nostra nei confronti di questi di queste bestie che ogni giorno freddano tante signore che ricordiamo la donna ecco lei dove nasce tutto dove ha origine e la vita sono le nostre mamme le nostre nonne noi dovremmo essere riconoscenti solo e soltanto per quello non solo perché sono mogli o compagne perché sono loro che ci hanno dato la vita per questa edizione del telegiornale è tutto ringraziamento a voi per averci seguito dalla redazione di Udine a Gorizia e Trieste di Telepordenone dopo una breve pausa per la pubblicità la linea alla redazione del Veneto un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto continua l'informazione di Telepordenone un camionista di 55 anni ha perso la vita oggi attorno a mezzogiorno in un incidente avvenuto lungo l'autostrada A13 Bologna a Padova nello schianto sono rimasti coinvolti un'auto e tre mezzi pesanti la vittima Adriano Dotta residente a Cordiniano era al volante di uno dei camion incidentati illesi gli altri tre conducenti rilievi di legge eseguiti dalla polizia stradale auto con quattro persone invece finisce fuoristrada sulla Jesolana muore un giovane di 24 anni la tragedia è avvenuta ieri sera poco dopo le 23 in via Fausta sulla provinciale 42 a pochi chilometri dall'abitato di Lugugnana di Porto Gruaro una Peugeot 206 che viaggiava in direzione Jesolo ha improvvisamente deviato la direzione di marcia finendo nel campo adiacente la carreggiata sotto al piano stradale all'interno del mezzo seduto sui sedili posteriori vi era Rifxion Monasterio 24 anni originario del Venezuela deceduto nello schianto domiciliato a Pasiano di Pordenone non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate alla guida della Peugeot vi era una donna di 21 anni anche lei di nazionalità venezuelana estratta dalle lamiere contorte dell'auto grazie all'intervento dei pompieri la ragazza è stata affidata alle cure dei sanitari una volta stabilizzata è stata trasferita in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre la prognosi è riservata con lei viaggiava anche il figlio letto di un anno e mezzo rimasto ferito e condotto invece all'ospedale Caffoncello di Treviso a completare il gruppo vi era una 14enne sempre sudamericana che ha ricevuto le cure dei sanitari dell'ospedale di Portogruaro non sarebbe in gravi condizioni si sarebbe trattato dunque di una fuoriuscita autonoma vista l'assenza al momento dell'incidente di altri mezzi coinvolti tuttavia l'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Portogruaro intervenuti sul posto per compiere tutti i lievi di legge del caso un'abitazione quasi rasa al suolo e due anziani miracolati è questo il bilancio dell'esplosione avvenuta nella notte a Breda di Piave in provincia di Treviso in via Levada al Civico 4 i vigili del fuoco sono intervenuti mettendo in salvo due pensionati un uomo di 90 anni e una donna di 87 la loro casa ha subito una forte deflagrazione sembra per una fuga di gas probabilmente una bombola di GPL sta di fatto che l'edificio è parzialmente crollato sul posto oltre ai pompieri il suo M118 che ha preso in cura i feriti l'anziana è stata trasportata all'ospedale Caffoncello con forti ustioni ma non sarebbe in pericolo di vita l'uomo ha rimediato ferite più lievi in quanto si trovava in una stanza più defilata rispetto al luogo dell'esplosione omicidio di Moriago è stata uccisa con una ventina di coltellate Elisa Campeol 35 anni di Pieve di Soligo raggiunta da diversi fendenti mentre stava prendendo il sole ieri in Riva al Piave all'Isola dei Morti a Moriago appunto come testimoniano insomma le numerose ferite trovate sul cadavere ispezionato dal medico legale poco dopo le 13 il fatto Fabrizio Biscaro 34 anni operaio di Col San Martino si è poi presentato alla stazione dei Carabinieri di Valdo Biadene ammettendo il fatto l'uomo si trova reclusi in isolamento presso il carcere trevigiano di Santa Bona ma il suo legale e il pubblico ministero titolare del fascicolo aperto in procura per omicidio volontario starebbero cercando una sistemazione alternativa per quanto riguarda una figura che mostrerebbe evidenti segni di squilibrio le ragioni del gesto sono comunque al vaglio degli inquirenti guardia di finanza maxi sequestro di droga ancora nel veneziano sequestrati 22 chili di cocaina la sostanza stupefacente avrebbe fruttato una volta emessa nel mercato 8 milioni di euro sentiamo 22 kg di cocaina trasportati su un'auto di grossa cilindrata da un corriere di nazionalità francese di origine magrebina è l'ultimo sequestro messo in atto dalla guardia di finanza di venezia dopo un controllo a un'autovettura all'uscita del casello autostradale di meolo roncade a insospettire le fiamme gialle durante il controllo su strada è stato l'evidente nervosismo del conducente indispettito dal protrarsi delle verifiche negli archivi di polizia che stavano eseguendo i militari allertati dal fatto che quel nominativo risultava censito nelle banche dati per possibili collegamenti con ambienti dell'estremismo islamico la vettura è stata parzialmente smontata da parte del personale specializzato della guardia di finanza riverando la presenza di due doppi fondi ricavati nel pianale il cui meccanismo di apertura era azionato da un telecomando rinvenuto all'interno dell'abitacolo stesso ben stipati nei vani i finanziari hanno trovato 20 panetti di sostanza solida biancastra poi risultata essere cocaina avvolti in involucri di cellophane sigillati con del nastro da imballaggio la sostanza stupefacente l'autovettura sono state sottoposte a sequestro e il corriere è stato tratto in arresto per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e condotto in carcere a Venezia la droga probabilmente destinata a rifornire le principali piazze di spaccio del litorale veneto durante la stagione estiva avrebbe fruttato sul mercato circa 8 milioni di euro si perde in montagna al calar del sole ma viene recuperata e messa in salvo dal soccorso alpino notte di paura quella trascorsa per una turista lettone nel belunese ieri sera attorno alle 23.15 il soccorso alpino di cortina era stato allertato a seguito dell'allarme lanciato da rifugio Biella dove erano arrivati tre escursionisti che avrebbero dovuto incontrarsi lì con l'amica partita dal lago di Braies e mai arrivata la donna aveva iniziato la salita verso le 18 e l'ultimo contatto risaliva alle 20 quando aveva detto ai compagni di essersi persa era peraltro scoppiato in quel momento un forte temporale il cellulare della turista non era più raggiungibile fortunatamente attorno a luna la donna è stata ritrovata illesa dalla squadra in salita sopra il lago e l'allarme è rientrato nel belunese e anche nel veneziano e nel vicino pordenonese sono ore di cordoglio per la scomparsa invece di Anna Maria Nerosi la cinquantenne veneziana con un'attività aerto e casso precipitata per 150 metri durante un'escursione in Val di Zoldo scivolando dalla cresta degli sfornioi mentre si trovava in compagnia con due amici centri estivi stanziati oltre 1,5 milioni di euro per sostenere le famiglie dell'area metropolitana di Venezia ne dà notizia oggi la deputata di Italia Viva Sara Moretto un importante aiuto dice voluto dalla ministra Elena Bonetti che ha comunicato gli importi approvati oggi dalla conferenza unificata in arrivo entro luglio i soldi nelle casse comunali siamo di fronte a un mercato del lavoro sempre più esigente che chiede competenze specifiche aggiornamento veloce formatori operativi un accordo fondamentale con le imprese lo ha detto Elena Donazzan assessore al lavoro intervenuta oggi in occasione della presentazione della ricerca alle professioni del futuro voluta da Confindustria Veneto e condotta da Fondazione Nordest su circa 1100 imprese ricerca dalla quale emerge che le realtà venete hanno un'elevata consapevolezza dell'impatto che avranno nei prossimi anni temi come la digitalizzazione l'industria 4.0 la sostenibilità e l'internazionalizzazione trend destinati a consolidarsi che richiedono nuove competenze oggi non ancora presenti in modo adeguato in azienda e che pongono al centro della scena la formazione terziaria professionalizzante e quindi anche gli istituti tecnici scolastici andiamo nel Veneziano iniziati i lavori di restauro del Duomo di Mirano a breve partiranno anche quelli del Campanile lavori che vanno di pari passo con una raccolta fondi sentiamo in questo Duomo che necessita di interventi radicali c'è una storia c'è un vissuto ci sono anni anni e anni di vissuti di esperienze liete e tristi e quindi è un qualcosa che sono muri che parlano è un qualcosa che è carico di sentimenti di emozioni di trascorsi di tutto un passato che ha tutto il suo carico significativo io credo che voglio dire soprattutto di questo di sentire che c'è questo grande spessore ci sembra doveroso ma siamo anche molto onorati ed orgogliosi di contribuire a costruire questa squadra e poi tutte le risorse che servono per portare allo splendore che merita il nostro bel Campanile di Mirano il Duomo come abbiamo spiegato sono già state trovate tutte le risorse c'è un grosso apporto di centromarca la banca la banca di questo nostro territorio insomma un credito cooperativo che sempre sostiene tutte le iniziative importanti dei nostri territori è emerso in maniera chiarissima che il Campanile ha bisogno proprio di un come dire di un rifacimento sia esterno sulla facciata ma poi sta emergendo anche in altri punti con l'occasione siccome questo Campanile il parroco ci aveva anche permesso di utilizzarlo per eventi che sono un po' anche così la nostra storia la nostra identità come terra dei Tiepolo il carnevale facevamo proprio la discesa proprio di esperti arrampicatori dal Campanile vestiti in maschera vestiti da pulcinella con questa occasione che era molto apprezzata appunto sia dai miranesi e non adesso credo che l'idea di permettere la visitabilità del Campanile e quindi il restauro anche interno sia una cosa importante proprio anche per l'importanza sempre più turistica che comincia a avere anche questo nostro territorio tre grossi interventi l'abbiamo fatto attraverso una contribuzione diretta che è un metodo piuttosto semplice c'è il nuovo sistema di acquisire i crediti per cui anche la parrocchia ne ha utilizzato quindi acquisiamo anche il credito fiscale che ne deriva il contributo fiscale che ne deriva dallo Stato e terzo che secondo me è forse anche più interessante che abbiamo già utilizzato in altre iniziative sociali è il crowdfunding donate questo istituto questa piattaforma che noi utilizziamo attraverso il nostro link basta andare nel sito della nostra banca ci sono i link per rivolgersi mi pare si chiami CMB for people ci sono tutti i progetti che riguardano il crowdfunding ci sarà anche la parrocchia di Mirano con l'obiettivo di raccogliere elargizione da parte dei cittadini noi ci crediamo particolarmente perché noi vogliamo che in questi particolari progetti ci sia anche la comunità che partecipi ed è una cosa non è un problema di quantum cioè che sia un euro che siano cento euro mille euro è importante che la comunità partecipi completamente anche perché è una squadra noi riusciamo a raggiungere maggiori obiettivi se tutti anche poco si danno da fare per poterlo raggiungere Covid-19 sono 35 i nuovi casi in Veneto e non c'è stato alcun decesso nelle ultime 24 ore lo si apprende dal bollettino regionale odierno superato lo stop invece imposto l'anno scorso dall'emergenza i finalisti del premio campiello hanno cominciato il tour in presenza che li porterà in giro per l'Italia i magnifici 5 Andrea Baiani Giulia Caminito Paolo Malagutti Paolo Nori e Carmen Pellegrino hanno incontrato i lettori e gli appassionati nella prima delle 12 tappe di un percorso che li porterà anche all'estero all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi è una giornata importante per il campiello ha commentato il presidente della fondazione Enrico Carraro perché c'è finalmente una riapertura anche sul fronte culturale partiamo nella splendida cornice del Lido e concluderemo alla grande il 4 settembre all'Arsenare sito meraviglioso e troppo poco conosciuto di Venezia e parlavamo prima di covid aperta la commissione d'inchiesta che dovrà far luce sulla gestione della pandemia sentiamo alcune considerazioni in particolar modo dalla presidente della commissione d'inchiesta stessa Francesca Zottis siamo contenti che sia nata ci impegneremo insomma ringrazio i colleghi per la fiducia che mi è stata accordata come presidente e le colleghe dell'ufficio di presidenza perché insomma sarà un ufficio di presidenza al femminile questo insomma credo che dopo l'ufficio di presidenza del consiglio che comunque vedeva tre donne all'interno dell'ufficio di presidenza adesso abbiamo un ufficio di presidenza della commissione d'inchiesta completamente femminile con la collega Cecchetto come vicepresidente e con la collega Briska Cini invece come segretaria della commissione e questo è un primo passo l'obiettivo è quello chiaramente di fare piena chiarezza su quello che è successo piena chiarezza per riuscire anche a dare una prospettiva comunque futura al Veneto sulla base di quello che non è andato quindi da una parte chiarezza piena senza indugi e dall'altra la costruzione comunque anche di una visione e di prospettive future attraverso quelle che saranno le audizioni quelle che saranno anche le consultazioni che sono già previste nel provvedimento che era stato votato dall'Aula e che condivideremo eventualmente ulteriori audizioni e consultazioni con i membri della commissione stessa commissione di inchiesta partita oggi con il nuovo ufficio di presidenza tutto al femminile quindi una sensibilità tutta particolare per questo periodo così importante e anche critico per la nostra regione abbiamo modo di rivedere tutto il periodo che riguarda la pandemia in tutti i suoi dati in tutte le sue particolarità saranno sedute in streaming per chi vuole a seguirci e poi tutti i verbali verranno mandati in procura come da indicazione del presidente Zaia avremo modo così tutti insieme di rivedere questo periodo difficile per la nostra regione alla luce di tutti i dati che potremmo e che riusciremo ad avere in mano Sangona di Piave a proposito di coronavirus il covid point della città sulle rive del fiume Sacco alla Patria è ritornato a essere operativo al piano terra della palazzina posta in via Girardi 23 ne dà notizia all'azienda sanitaria a Bibione si intensifica il tema della sicurezza in spiaggia la giunta comunale ha approvato oggi una delibera relativa al progetto di sorveglianza delle spiagge libere con sensibilizzazione dei turisti a rispetto delle norme sul covid-19 ebbene il comune mette a disposizione 16 mila euro in carica la guardia costiera ausiliaria ad effettuare gli interventi programmati il servizio è iniziato il 12 giugno e vedrà in azione dai due ai tre volontari altamente formati e qualificati fino al prossimo 12 di settembre aggiornamento meteo sul Veneto attesi ancora temporali in serata sui rilievi lo fa sapere il centro funzionale decentrato della protezione civile instabilità specie su zone montane e pedemontane dove saranno più probabili i rocali rovesci e temporali non si escludono fenomeni anche intensi lo stato di attenzione è valido per la rete secondaria dei balcini idrografici dell'alto piave ma anche del piave pedemontano fino alle ore 8 di domani 25 giugno se oggi siamo in una situazione ancora difficile nonostante le azioni intraprese dobbiamo avere il coraggio di prendere atto che il piano in scadenza non ha raggiunto il suo obiettivo e che il nuovo deve contenere azioni coraggiose ed efficaci accompagnate dalle relative risorse economiche e dagli atti amministrativi necessari per debellare una volta per tutte il problema cinghiali anche con il coinvolgimento deciso delle imprese agricole nelle azioni di contenimento questo è il fermo giudizio di Coldiretti sull'avvio di un tavolo promosso dalla regione per mettere appunto un nuovo piano di controllo e contenimento della specie dentro e fuori le aree protette purtroppo mancano ancora i dati certificati sollecitati dalla regione continua Coldiretti che dovrebbero essere continuamente monitorati nella provincia di Venezia l'area particolarmente colpita è la zona di Cavallino Treporti ma anche di Caorle considerata la situazione delle altre province potrebbe il tema anche espandersi nella splendida e prestigiosa cornice di Villa Torni sede della sezione di Treviso dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia si è svolto nei giorni scorsi il premio Bontà Città di Treviso giunto alla 26esima edizione organizzato dalla stessa sezione trevigiana sono stati conferiti premi a enti e persone che si sono distinte nelle loro azioni per la tutela e la promozione della sacralità della vita in armonia con i principi della Chiesa Cattolica e sono stati assegnati ufficialmente gli attestati ai cavalieri dei nuovi soci donne e uomini che hanno affrontato a viso aperto le sfide della pandemia in prima fila ma anche volti noti e meno noti della società che sono entrati in questa cosiddetta trincea grazie per averci seguito con questo è davvero tutto vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo immancabile l'appuntamento del giovedì con il Portogruaro calcio femminile che ha concluso la stagione festeggiando la Serie C rimanendo dunque in Serie C nonostante la sconfitta dell'ultimo match per 2 a 0 contro Unterland Damen è andata male la partita ma è andata bene per fortuna la stagione per quanto riguarda l'informazione è tutto alla prossima arrivederci venerdì sulla pianura in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso nella seconda metà di giornata su piede montana e zone limitrife nuvolosità in aumento con alcune piogge specie verso sera sui monti fino al mattino sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio nuvolosità in aumento con varie piogge temperature senza variazione di rilievo prima delle piogge in calo dopo le piogge una città intera aspettava questo giorno questa partita gli ultimi 90 minuti della stagione del Porto Gruaro sono quelli decisivi per la salvezza la concorrente diretta delle Granata Lisera gioca con un'ora di anticipo sul proprio campo contro l'atletico di Oristano Porto Gruaro dunque che gioca sapendo già il parziale avanzato delle ragazze trentine concorrenti dicevamo per la salvezza le notizie che arrivano dal Trentino sono buone Lisera sta perdendo ampiamente contro l'atletico Ristano molto meno buone le notizie invece che arrivano dal campo del Mecchia dove l'inizio è tutto di marca bianco-blu grazie alla maggiore fisicità e anche al nervosismo che attanaglia le Granata quarto minuto pallone perso da Chiarot sulla tre quarti si invola Nischl verso Comacchio pallone che però non entra tra i pali dello specchio della porta del Portuglaro poco dopo però altra grande occasione scambio che porta alla conclusione Mulo grande risposta ancora una volta di Comacchio con i piedi Comacchio che sarà decisiva anche in altre occasioni ma vedete è un inizio arrembante da parte dell'Unterlandamen che nell'ultima parte di campionato ha veramente messo il turbo addirittura fermando il Venezia è tutta di marca bianco-blu la prima parte di gara qua palla di profondità per Pea sembra gol fatto ma la sfera si perde alla destra di Comacchio sono le permesse però per il gol che arriva al venticinquesimo rilancio di Comacchi viene intercettato dal centrocampo Alto Tesino gran conclusione stavolta di Pea nulla può Comacchio 1-0 per l'Unterlandamen ed è meritatissimo il vantaggio segnato da Pea classe 93 e sesto gol in campionato per lei non finisce la morsa dell'Unterlandamen qui Fustl con la conclusione sfiora il palo con le immagini di Gabriele Zoni andiamo nella ripresa una ripresa che ha tutt'altro tono perché è finita nel frattempo la partita Isera hanno perso le dirette concorrenti del Porto Gullaro che dunque è veramente in modo aritmetico salvo lo si vedrà nell'approccio delle ragazze di Mr. Morettin molto più sciolto alla gara sono anche di più le occasioni qui Gashi al decimo del secondo tempo sfiora il gol lo meriteranno il gol ma non riusciranno a trovarlo ci andranno però molto vicine le ragazze del Porto qui tocco di Gashi per Gallo il pallonetto non trova però nient'altro che il montante la sinistra delle portiere Furlanis prova un traversone sarà molto attiva la centrocampista Granata sulla destra sono però le discese anche dell'Unterlandammen a fare paura a l'Unterlandammen che arretra un po' il proprio baricentro anche per via dei ritmi più bassi che favoriscono l'avanzare del Porto Gruaro ma è un grande pezzo di classe quello che regala il numero 37 è Nichler tunnel a Chiarotte conclusione su cui però Comacchio dice la sua rivediamo il pezzo di bravura della classe 2000 evita con una finta di corpo nodale e poi hopla tocco a evitare l'intervento di Comacchio che però è decisiva intervento di Chiarotto poi Comacchio è decisiva Traversa di Föstl colpita al trentaseiesimo su calcio di punizione ancora Furlanis che elabora cross sulla destra ma sono le premesse per il gol del Unterlandammen che arriverà poco dopo questa occasione per Nichler si meritava il gol a numero 37 lo farà invece la numero 29 Föstl classe 92 è l'ottavo gol in campionato per Föstl il secondo consecutivo ma la festa è tutta del Porto Gruaro che si gode la salvezza è un traguardo meritato per le ragazze di Mister Morettin che ci hanno creduto fino alla fine da Davide Gasparotto un saluto alla prossima stagione grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti